Bene, vediamo oggi la tavola numero 41. Faremo l'assonometria isometrica di un cono. Di per sé potrebbe sembrare un disegno semplice, di fatto lo è, però chiaramente la base di questo cono, che è un cerchio, essendo rappresentata in assonometria isometrica, non sarà più una circonferenza. Adesso vediamo una tecnica per poterla così realizzare. Allora, come sempre, procederemo impostando la tavola in verticale e dividendola in due parti, tavola 41, nella parte superiore tracceremo la proiezione ortogonale, nella parte inferiore l'assonometria isometrica. Allora, la proiezione ortogonale di per sé è molto semplice, nel senso che vedremo nel PO un cerchio e nel PV e nel PL le due viste frontali e laterali che sono identiche e che di fatto, insomma, verranno rappresentate con un triangolo. Dobbiamo vedere però, dobbiamo però in questo, nel realizzare il cerchio, impostare tutto quello che ci può servire poi per poterlo rappresentare deformato, diciamo così, nella assonometria isometrica. Allora, vediamo subito, questa è l'impostazione generale della tavola, vediamo adesso, ecco qua, un po' di dimensioni. Allora, disegneremo un cerchio di raggio 2,5 centimetri, il cui centro, che è questo punto che vi sto indicando adesso, è a 3,5 centimetri sia dall'asse X che dall'asse Y. Ok, quindi questa è la prima cosa che dovremo tracciare, individuare questo punto, 3,5 e 3,5, con l'apertura di compasso pari a 2,5, tracciare la circonferenza. Dopodiché divideremo questa circonferenza in quattro parti, cioè tracceremo di fatto il diametro orizzontale e il diametro verticale. Adesso il problema quale è? Siccome dovremo poi rappresentare questo cerchio in assonometria, che appunto, come dicevo, verrà, tra virgolette, deformato, dobbiamo trovare un certo numero di punti per poterlo poi rappresentare, perché poi dopo questo lo faremo, diciamo, a mano libera. Allora, la prima cosa che possiamo fare, come abbiamo già fatto in altre tavole in passato, è dividere questo cerchio, cioè trovare praticamente 12 punti. Allora, i primi quattro li abbiamo già trovati con i due diametri, no? Poi con la squadretta inclinata al 30%, ve lo sto facendo vedere qui, individuiamo questo asse e di conseguenza l'asse opposto, specchiando la squadretta nell'altro verso. Poi possiamo mettere la squadretta a 60 gradi, ecco qui l'indicazione, e tracciare questa linea e poi specchiando la squadretta l'altra linea. Questa operazione l'abbiamo già fatta in passato per altre costruzioni. In questo modo avremo, così, individuato 12 punti. 12 punti è un numero più che sufficiente per poter poi rappresentare, soprattutto per queste dimensioni, il cerchio in assonometria isometria. Va bene, quindi questo è quello che dobbiamo fare. Adesso come procederemo, però? Allora, il problema quale è? Che i raggi, ok, in assonometria saranno deformati, perché abbiamo detto che in un'assonometria isometria le linee che rimangono invariate a livello di dimensioni sono quelle parallele all'asse X e all'asse Y. Capite pure voi che il raggio che va dal punto centrale a 12 oppure a 11, a 9 e così via, sono inclinate, per cui non manterranno la stessa dimensione. Che cos'è che manterrà la stessa dimensione? Tutte le linee orizzontali e verticali. Allora, dobbiamo praticamente andare a creare una sorta di quadrettato in modo che possiamo individuare tutti questi punti con delle misure orizzontali. Allora, vediamo un attimo come possiamo fare. Allora, intanto incominciamo ad unire il punto 3, il punto 5, il punto 9 e il punto 11 con questo grande rettangolo, diciamo così. E la stessa cosa facciamo con gli altri punti. 2, 12, 9, 8 e 6. In questo modo abbiamo individuato tutti i punti su un quadrettato. Quindi qualsiasi punto può essere individuabile con una misura lungo l'asse x o lungo l'asse y. Ok? Quindi, ricapitolando, ecco qui, questa immagine è la stessa della precedente, però abbiamo a noto così le dimensioni che dobbiamo conoscere. Allora, dovremmo conoscere appunto il punto del centro che è a 3,5 e 3,5 dagli assi. Poi dopo avremo un primo quadrettato, che sono questi quadretti qui, che hanno la misura di 1,25 e una seconda misura, 0,92, che è questa. Queste sono le misure che vengono dalla costruzione che abbiamo fatto precedentemente. Sono quelle che poi ci serviranno nella sonometria per poter, diciamo così, completare la figura. Ok? Quindi queste le dobbiamo memorizzare. 3,5 e 3,5 il centro, 1,25 i quadrati e 0,92 il lato di questi rettangoli che ci sono dopo. Allora, prima di procedere all'assonometria e isometria, completiamo la proiezione ortogonale. Eccola qui, la vedete. Insomma, è abbastanza semplice. No, bisogna, basta soltanto tirare su i vari punti, cioè i vari punti. Non c'è nemmeno bisogno, insomma. Basta tirare su i punti del diametro, il punto 10 e il punto 4. Il vertice, l'altezza di questo cono, è 5 centimetri e in questo modo riusciamo a completare la costruzione. Chiaramente la proiezione ortogonale non presenta nessuna difficoltà, a meno appunto di questo quadrettato di base, guardatelo bene, che abbiamo, diciamo così, preparato per poter poi fare l'assonometria. Allora, iniziamo a fare l'assonometria sotto. Allora, la prima cosa che facciamo, adesso vedete la tavola nel suo insieme, è quella di tracciare, diciamo così, il primo quadrettato di base. Quindi partiremo dal centro. Quindi 3,5 e 3,5, ve lo faccio vedere ingrandito, eccolo qua. Quindi a 3,5 faremo una parallela, a 3,5 faremo un'altra parallela. ho individuato con il cerchietto magenta, il centro, per chiarezza, e poi dopo, facendo le parallele, costruiamo i primi quadrati intorno che appunto hanno un lato di 1,25, ve lo faccio vedere qui. Eccolo qua, 1,25. Abbiamo di fatto riprodotto questo quadrato qui. Eccoci qua, 1,25. Dopodiché, passaggio ulteriore, facciamo gli altri rettangoli intorno a 0,92. Ok? Questo è quello che abbiamo fatto. In questo modo abbiamo di fatto preparato il reticolo di base. Adesso il lato della nostra figura, il lato del, scusate, il raggio del nostro cerchio è 2,5. Quindi dal centro facciamo una parallela a 2,5. Individuiamo questi quattro punti, sia sull'asse X che sull'asse Y, che sono, diciamo così, i quattro punti principali della nostra circonferenza. Vi ho tracciato con la linea di color magenta, diciamo così, il quadrato che è quello che circoscrive il cerchio di base. Quindi in questa rappresentazione vediamo il centro, i quattro punti principali della circonferenza, e in magenta il quadrato che circoscrive la circonferenza. Quindi questi sono già i primi punti fondamentali. A questo punto individuiamo gli altri punti. 1, 2, 3, 2 e 3, 1 e 4 già ce l'avevamo, 5 e 6, 8 e 9, 10 e 11. Seguite passo passo queste istruzioni e non potete sbagliare. In questo modo possiamo poi unirli, questi punti, con di fatto un'ellisse a mano libera. Quindi verrà un pochino tremolante, cercate di essere i più precisi possibili, però ecco, va bene, non c'è nessun problema. Fatto questo, dal punto centrale tiriamo sull'altezza, che è di 5 centimetri. Anche questa però rappresentata in magenta. E rappresenteremo poi i due spigoli in elevazione del nostro ellisse. Come lo facciamo? Questi spigoli in questo punto devono essere tangenti. Il punto preciso probabilmente noi non ce l'abbiamo. Allora in questo modo metteremo la squadretta con un punto fermo nel vertice del nostro cono e poi dopo la sposteremo fino ad arrivare alla fine, diciamo così, ruotando la squadretta dell'ellisse. In questo modo dovremo la tangente, sia da una parte che dall'altra. E questi sono i due spigoli. Dopodiché rappresenteremo, scusatemi un attimo, rappresenteremo i due, la parte che è nascosta e la parte che è tratteggiata. Quindi vi conviene l'ellisse di base farlo, diciamo così, con la mina 2H. Poi ripasseremo con la F la parte visibile e dietro i due spigoli laterali in altezza la parte tratteggiata. Ecco, il risultato finale della tavola sarà questo che vedete. Va bene? Ecco, provate e poi ci sentiamo per la prossima tavola.